Il capo dello Stato Giorgio Napolitano a Napoli per celebrare il settantesimo anniversario delle quattro giornate ha lanciato un messaggio forte da un luogo simbolo come il carcere di Poggio Reale. «E' pronto un messaggio alle Camere sul tema del sovraffollamento delle prigioni. Pongo al Parlamento un interrogativo se esso ritenga di prendere in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza, di indulto e di amnistia», ha detto il Presidente della Repubblica raccogliendo gli applausi di detenuti, guardie carcerari e volontari. Napolitano non ha nascosto come ormai affrontare il tema sia un imperativo umano e morale, dopo che anche la Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per lo stato disastroso dei suoi istituti penitenziari. «Mi auguro che il clima politico sia sufficientemente svelenito perché il mio messaggio alle Camere possa avere un'accoglienza serena e garantire che il Parlamento lavorerà nei prossimi mesi», a risposto ai giornalisti che gli chiedevano se questa sua iniziativa avrebbe aiutato ad allentare l'attenzione. Ma così non è stato ed ora Napolitano si trova alle prese con la crisi di governo aperta dal PDL. «Mi auguro che il clima politico sia un'accoglienza sia un'accoglienza sia un'accoglienza sia un'accoglienza sia un'accoglienza sia un'accoglienza. «Mi auguro che il clima politico sia un'accoglienza sia un'accoglienza sia un'accoglienza ma par iniziatpenza.